scelto il repertorio per tuo concerto beh ho scelto le canzoni ho detto anche prima le canzoni più conosciute e non è non è facile mettere poi insieme e riuscire a fare una scaletta però ce ne sono altre che ho lasciato fuori il problema poi sarebbe fare cinque ore un po difficile se qualcuno ti diceva che devi cantare l'ultima canzone della tua vita quale canzone sceglierei sceglieresti sono curiosa per me per però poi si piangono tutti ancora di più